Eccoci qua. Ciao Mario, buona domenica. Ciao Michele, ciao. Allora, carissimo, andiamo subito in media stress. Ci siamo sentiti un attimo e sembra che oggi dobbiamo parlare di politica industriale. Sì, di quella cosa che in questo paese è diventata una parolaccia, non da oggi, no? Però la vogliono fare tutti, anzi sono convinti che attraverso la loro politica industriale risorgerà il paese. E allora ci siamo detti, visto che sono usciti, diciamo così, i due teorici di questo governo per quanto riguarda quell'argomento. L'ha mazzucato per quanto riguarda il mondo 5 Stelle, Casaleggio, Grillo e compagnia, o Conte se volete. E Emanuele Felice, il PD, con un loro documento di politica industriale, ci è sembrato il caso di almeno cominciare. Poi se riusciamo a far tutto nei tempi ragionevoli della nostra solita chiacchierata bene, se rimane qualcosa pendente, ci sarà di sicuro l'opportunità di ritornarci. A noi poi piacerebbe, e faccio subito l'invito all'uno e all'altra, di discuterne a quattro occhi. In quanto, sì, i testi, in particolare gli editoriali scritti per il grande pubblico, con tono, questo vale soprattutto per l'articolo della mazzucato, con tono, come dire, più propagandistico e scientifico, lasciano un po' a desiderare, quando poi si cerca di capire cosa concretamente si abbia in mente. Beh, do la parola a Mario che l'articolo della mazzucato l'ha guardato più attentamente di me e direi che lo potremmo anche mostrare, che ne dici? Sì, sì. Allora. Allora, facciamolo apparire qua, eccolo qua. L'articolo che abbiamo in mente è questo, che è stato pubblicato questa settimana su Project Syndicate e oggi, se ho visto correttamente, visto che i nomi degli autori sono gli stessi, compare sul fatto. Chiaramente è una versione tradotta. Ma, allora, la tesi è anche abbastanza, la tesi di Mazzucato e Andreoni, che è il suo co-firmatario, diciamo, di questo articolo, è abbastanza, almeno per quelli come me, è abbastanza affascinante, no? Nel senso perché dice come evitare di fare dei bailout. E siccome noi, come dire, dall'esperienza bancaria abbiamo a cuore l'idea di limitare il bailout, pur che sia, ma chiaramente il problema italiano è relativo anche al fatto che l'Italia continua a perdere colpi a ogni recessione, quindi mostra progressivamente minore resilienza fuori da ogni recessione, perché tende a conservare l'esistente per tutta una serie di motivi. Ad esempio il fatto che non dispone di politiche attive del lavoro, sospetto anche per il fatto che non disponga di un sistema scolastico, educativo e formativo, tale da produrre una qualche sinergia con l'evoluzione delle competenze richieste. Questo è un punto, naturalmente, io non sono qua in modalità brevi cenni dall'universo, perché ognuno di questi temi va sviluppato, ed è stato sviluppato nei video che compaiono sul sito Liberi Oltre e non solo. Però, allora, cosa dice questo articolo? No more free lunch bailout. Quindi, sostanzialmente, se deve esserci un intervento pubblico di salvataggio, deve avere delle condizionalità. E su questo siamo perfettamente d'accordo. Sembra incredibile, ma io sono d'accordo con Mariana Mazzucato. Non è che sembra incredibile, sembra incredibile per chi si mette a polarizzare le posizioni in una maniera un po' da macchiette. Praticamente, è importante quello che viene detto nel pezzo. Riscoprire il ruolo tradizionale dello Stato come investitore di prima istanza, investor of first resort, piuttosto che solo che come prestatore di ultima istanza. è diventata una precondizione per un'efficace policy making nell'era post-Covid. Se posso fare il professore, guarda che nessuno, Mariana, ha mai teorizzato sullo Stato prestatore di ultima istanza. Quella è la banca centrale. Adesso non lo so in quale manuale tu abbia studiato, ma io ho teorie sullo Stato. Poi, lo Stato tutto, come prestatore di ultima istanza, non si capisce a chi, a quando e perché. La spesa pubblica. Eh? La spesa pubblica probabilmente intendeva dire... La spesa pubblica non si fa prestando, si fa spendendo. Normalmente si va anche tassando nel bel mondo antico, nel mondo che in mente Mariana probabilmente si fa solo stampando moneta, ma comunque in ognuno di questi casi non è prestito. No, questo per essere precisi, perché visto che parliamo di cose serie, parliamo di cose serie. Posso aggiungere, Mario, poi ti ridò la parola? Sì, sì. C'è subito il giochetto retorico. Allora, la possiamo analizzare come vogliamo. La possiamo guardare come vogliamo, la questione Covid. D'accordo? Possiamo prendere l'interpretazione svedese o l'opposta interpretazione. Una cosa è certa. È uno shock di offerta che nulla ha a che fare col mercato e le conseguenze economiche sono, a seconda del livello di profondità che avranno, comunque tutte e sempre frutto di decisioni politiche. Qual è la maggior parte di queste legittimissime? Per la tutela della salute pubblica, che hanno detto a un tot di imprese dovete suicidarvi. Perché? Perché dovete suicidarvi? Per il bene comune. Quindi è bene chiarire che in questo caso il ruolo dello Stato c'è e deve esserci perché è il ruolo dello Stato giusto, cioè corretto. Cioè lo Stato fa sta roba qua, infatti, no? Cerca di controllare l'enorme esternalità che una non coordinazione nella reazione al Covid avrebbe generato. Nel farlo, lasciamo stare se ha fatto bene l'Italia, gli Stati Uniti, il Giappone, Taiwan, la Svezia. Non importa. Ogni Stato... È presto per dirlo. Sì, ed è troppo presto. Esatto, io sono ancora di questa opinione. La giuria è ancora riunita, diciamo. Continuo a dire a tutti, state buoni. Io ho la mia opinione, ma fra un anno ne parleremo. Non adesso. Troppa fretta di tirarle soli. Sono perfettamente d'accordo. Ne avevo mai parlato con Mario, ma sono perfettamente d'accordo. Bene, comunque, indipendentemente, quindi, da chi abbia ragione o torto, e lo vedremo fra un anno o due, oggi siamo in situazioni di grave crisi economica across the world, a livelli differenti, per una decisione statale a priori legittima. A priori legittima, corretta. E quindi va affrontato, ovviamente, lo Stato nel momento in cui decide di dire delle imprese vi suicidate, deve anche dire adesso trovo la maniera per evitare che il suicidio dell'impresa si trasformi in un dramma sociale molto peggio del Covid. Questo è il problema che stiamo affrontando. Certo. E la signora Mazzucato, e non è l'unica, ma è quella che l'ha fatto più esplicitamente in questi mesi, sta utilizzando retoricamente questa cosa per inventarsi una teoria, secondo cui, visto il mercato, i privati hanno fallito, per forza gli amici cararmati si studiano e creato l'economia di guerra. Quindi, adesso, è tempo per lo Stato imprendito, che è una cosa che spinge da... Scusa, volevo chiarire questo. Da questo poi dipendono molti pseudopassaggi logici, sia in quell'articolo, sia in quell'altro che vediamo. Certo. Poi a un certo punto c'è questa professione di fede nell'intervento pubblico, dove dice Tuttavia, affinché l'investimento porti ad una economia più sana, resiliente e produttiva, il denaro non è abbastanza. I governi devono anche ripristinare la capacità di disegnare, implementare e fare rispettare la condizionalità in capo ai destinatari degli aiuti, affinché il settore privato operi in una maniera che porti ad una crescita inclusiva e sostenibile. Uno dice, mi sembra che, letto alla lettera, questo implichi che sistematicamente qualunque attività di mercato, facciamola astratta, porti a delle distorsioni, a delle esternalità negative e a delle misallocation, tali per cui l'intervento del governo non è solo di regolazione overall, diciamo di regolazione generale, ma mi dà l'impressione che scenda addirittura al dettaglio del micromanagement, che è, se vogliamo dirla tutta, miele per il palato e musica per le orecchie della classe dirigente italiana, non solo quella coeva, ma quella degli ultimi decenni, cioè la microgestione dell'economia al grido il mercato fallisce, a parte che qui il concetto di mercato, voglio dire, è di una tale astrattezza, no, che è vero che serve manutenzione nella normazione, ma un conto è la manutenzione nella normazione tale da non soffocare l'innovazione, e tutt'altro discorso è il micromanagement, no, nel senso che alla fine il decisore pubblico diventa il deus ex machina, fa delle porcate e si finisce male, e viene catturato... Per questo ho voluto sottolineare così da dove viene la crisi di cui stiamo parlando, perché sia chiaro, il resto del mondo andava tranquillamente per la sua strada in assenza del virus. Gli Stati Uniti celebravano l'undicesimo anno di crescita continua, la più lunga della loro storia, e così facevano molti altri paesi, c'erano dei rallentamenti, l'unica che guarda caso era piatta l'Italia, ma non c'entrava niente nel capitalismo, nel mercato, né niente che c'erano negli altri paesi. Nota che è molto divertente, ora siamo in una situazione in cui, divertente si fa per dire, il giochetto retorico, siamo in una situazione in cui moltissime imprese, per il trasporto aereo, il turismo, della ristorazione, eccetera, eccetera, hanno obiettive difficoltà a continuare, perché le norme di comportamento imposte dalle circostanze sono tali che rendono i loro costi di produzione enormi. Questo c'entra a zero con le teorie della signora Mazzucato su... no? Sì, assolutamente, assolutamente. C'entra a zero con le teorie della signora Mazzucato su global warming, green, growth, mercato cattivo, non c'entra assolutamente niente. Tra l'altro i settori in difficoltà, guarda caso, sono quelli dove è obiettivamente più difficile innovare. Non sono in difficoltà i settori tipo quello che io e te stiamo utilizzando. Non sono in difficoltà i settori ad alto tasso di innovazione, di biotecnologici, farmaceutici, a tutto ciò che è legato al mondo digitale. Sono in enorme difficoltà, forse alcuni fredditori più tradizionali di sistemi economici, le botteghe. Esatto, i servizi in presenza. I servizi, bravo. Naturalmente, allora, diciamo questo, il discorso della Mazzucato predata il Covid, perché lei è stata nominata consigliere, consulente del governo Conte, prima che succedesse questo, evidentemente per proprio un problema di, non dico incrementare la produttività del sistema Italia, perché come abbiamo detto anche la scorsa, fino alla scorsa settimana, per la politica il concetto di produttività è una parolaccia, perché alcuni lo scambiano concottimo, per dare la misura di quanto siamo messi, per altri una cosa che semplicemente non esiste impalpabile, ma prosegue Mazzucato il suo coautore su Project Syndicate, per fortuna con la business community che sta a sua volta riscoprendo i meriti dell'assistenza condizionata, ad esempio attraverso le pagine del Financial Times, questa forma di intervento statale non è più tabù, non lo è mai stata, non lo è mai stata. Qualcuno oserebbe dire che in Europa i governi europei, a partire da quello tedesco, ma da quelli scandinavi, per l'amor del cielo, da quello francese, ritengono che l'intervento di Stato sia un tabù, vogliamo parlare della Francia con il 56% di PIL intermediato dalla spesa pubblica, eppure con dati di produttività che competono direttamente con quelli tedeschi. Forse se la Mazzucato, diciamo, non saltasse alle conclusioni ideologiche che persegue con una ferocia e con una determinazione degna di miglior causa, scoprirebbe che ci sono degli veri e propri outlier, tra quali l'Italia, che non hanno un problema di insufficiente intervento dello Stato, ma è altro, è altro che io identifico nella struttura sociale e in quello che alcuni economisti istituzionalisti o anche sociologi definiscono il grado di fiducia tra cittadini e istituzioni. Noi magari ne parleremo, insomma lo scriveva anche Patnam, diciamo, non sono io il genio che ha scoperto queste cose, anche se io posso dire, ho fatto una tesi di laurea talmente stravagante, a parte il titolo che è lungo come quello di un film di Lina Wertmüller, però, di cui adesso vi farò grazie, diciamo, del titolo della mia tesi di laurea, però la mia tesi di laurea era il modo in cui soggetti operanti in una organizzazione complessa, ad ogni livello possibile, non accettano la simbologia e non si identificano nei valori di quella organizzazione complessa, agiscono giocando con il sistema per fare scadere la performance del sistema. Quindi è la logica del comportamento burocratico, di cui c'era un aureo libretto di Bretton e Wintraub, che praticamente applicavano l'analisi marginalistica alla logica neoclassica, alla logica del comportamento dei burocrati nelle organizzazioni complesse. Facciamo un esempio banalissimo lo sciopero bianco. Ecco, lo sciopero bianco è quella interpretazione letteralista delle regole che porta allo scadimento della performance dell'organizzazione. All'interno di uno Stato come l'Italia, dove c'è una sfiducia diffusa e dove la coesione sociale è sostituita da un sistema di elargizioni di spesa pubblica, che quando viene meno la capacità fiscale il Paese si lacera, i risultati sono rendimenti di sistema largamente scadenti. Questo è quello che ignorano le persone come la Mazzucato, ma le persone anche come chi elabora progressivamente programmi politici. Io ho letto quello di Emanuele Felice, che tu mi hai sottoposto, diciamo, per questa ripartenza, questo verbo, questo sostantivo ripartire applicato all'Italia, che lo sento da quando ero bambino, e quindi qualcosa vorrà dire, visto che bambino non lo sono più da molto tempo, che continua a ritenere che, dato un input robusto di risorse, la black box produca un output virtuoso. Anche no, perché partendo l'input robusto di risorse finanziarie e fiscali, un sistema sociale, culturale, di condivisione culturale simbolica, decadente, scadente, disfunzionale, conflittuale, privo di fiducia, produce uno scadimento dello yield, cioè della performance del sistema. E questo è quello che tutti questi grandi statalizzatori non riescono a capire, perché lo Stato... Vai, vai. Metti l'audio, metti l'audio. Non ti sento, Michele, metti l'audio. Audio. Scusa, avevo tolto l'audio, come al solito. No, no, vai pure, vai pure, vai pure. Dopo aggiungo, finisci, finisci. No, io, la mia idea è che, voglio dire, facciamo un esempio aneddotico di sociologia da bar sport, no? C'è un proverbio italiano che dice, fatta la legge, trovato l'inganno. Se andiamo a scavare sotto la superficie del luogo comune, di cui io sono un cultore, no? Dello studio del luogo comune, scopriamo che il luogo comune non è altro che la proiezione fattuale di comportamenti che sono mainstream nella popolazione di un dato sistema sociale. Cosa vuol dire fatta la legge e trovato l'inganno? Vuol dire che la gente si trova di fronte una normazione dei testi di legge, delle norme, e subito inizia a dire dov'è che mi vogliono fottere? Non è che se io interpreto questa parola in un altro modo loro non possono sanzionarmi e io vado a buon fine e dico no ma nella legge c'è scritto così e allo stesso modo la legge esce con una tale ambiguità linguistica, frutto non solo di burocratese o di politichese, ma tale da o scordarsi sistemi sanzionatori o altre cose. Quello che io voglio stressare come concetto è che una ipernormazione come quella italiana è figlia legittima, assolutamente legittima, cioè naturale, biologica, della mancanza di coesione sociale, di una visione sociale tra gruppi di portatori di interessi che è rigorosamente a somma zero e quindi è il modello superfisso di cui noi discutiamo da molti anni, dove se guadagno io tu devi perdere e non possiamo operare sinergicamente per accrescere la dimensione della torta. Quindi tutti quelli che nella loro meravigliosa narrazione di programmi politici del tipo riparte l'Italia ti dicono investimenti pubblici, digitale, fantastilioni di miliardi magari non nostri ma dell'Unione Europea uscirà di tutto e poi esce un topastro di fogna con i soldi che si perdono in millerivoli, si bloccano perché arriva l'ANAC, perché è nata l'ANAC, perché ci sono persone che interpretano a modo loro senza parlare di atti di criminalità organizzata o dei colletti bianchi. L'assenza di fiducia sociale, il percepire lo Stato e la comunità dei cittadini come altro da sé, come controparte, produce una ipernormazione che genera circoli viziosi. Scusate tutti quanti l'infervoramento, questa è l'essenza della mia tesi di laurea che 30 anni dopo mi risulta ancora mediamente e discretamente utile per leggere le condizioni disastrose di questo paese. Sempre il problema di aprire il luogo. Lasciami aggiungere un'osservazione, mi era venuta lì a metà del tuo discorso, perché tu dici chissà se ne sono consapevoli, se non ne sono consapevoli, gli dai il beneficio come dire, dell'ignoranza. Del dubbio. Del dubbio. Io credo francamente non lo siano. Veniamo dopo al documento di Felice che forse avrà bisogno di un altro ritorno e a Emanuele in particolare, ho già rivolto l'invito, glielo rivolgo di nuovo, di venire qui anche in compagnia, possiamo farlo live, a discutere assieme con Mario e con me e con altri di cosa intendono fare. Sono alla fine comunque il partito di maggioranza relativa italiano, con la Lega in auto-eclissamento, auto-sparizione. Sulla Mazzucato, io ho un atteggiamento un po' più duro, io credo che questa lo sappia e sia parte dal FIRE, non a caso Project Syndicate, quello fa appena, ha pubblicato un orrendo articolo del nostro amico Nouriel Rubini, che per carità cerca attenzione, l'ha sempre fatto, Nouriel, bravissimo. Siamo di fronte a una tipologia di, come dire, pensatori a cottimo o pensatori a domanda, i quali amano perseguire ed ottengono frequentemente sia reddito che onori pubblici, avanzando a tesi ideologiche. Gli argomenti della Mazzucato sono tutti ideologici, sono parte di un progetto politico che intende utilizzare il Covid per far sì che il mondo faccia scelte, che il mondo occidentale faccia scelte, che costoro i gruppi politici a cui loro si associano, ritengono quelle giuste. Se uno legge attentamente l'articolo, guardate in particolare l'ha chiuso, anzitutto il fatto che a sostegno delle sue posizioni, Mariana continua a citare come esempi, il fatto che ha ragione, che ha colto qualcosa di vero, decisioni di alcuni governi, il fatto che siano alcuni governi, tra cui il francese e il norvegese. E quindi gruppi politici che condividono il suo punto di vista, non c'è dubbio alcuno, lei opera, è un'operatrice, è un'agente di gruppi politici, di gruppi per il controllo politico dell'economia. Esistono degli obiettivi, vogliamo che le aziende facciano certe cose nel campo dell'energia, nel campo dei trasporti, nel campo dell'automotive, eccetera. Creiamo una crisi drammatica, nel bene o nel male, attraverso una decisione politica motivata da Covid, rendiamo le aziende incapaci di operare nell'ambiente esistente e poi gli diciamo, bene, adesso o produci le cose che voglio io o i soldi pubblici non di più. È molto semplice. Se uno legge con attenzione, se uno legge con attenzione questo articolo, è chiarissimo, guardate il pezzo su Macron. Non è che Macron sia la bocca della verità, Macron è l'esponente di un progetto politico. Il presidente francese Manuel Macron ha argomentato non dobbiamo solo salvare l'industria, ma trasformare. Più dichiarazione esplicita dello controllo statale, politico, politico, di alcuni gruppi politici sul sistema economico non c'è. Dopodiché, signori, potete anche decidere che va bene, però sia chiaro che questo si sta facendo. Si sta decidendo di utilizzare la crisi sanitaria per cominciare a implementare quello che ho chiamato il nazionalsocialismo sanitario. Da un lato una riaffermazione dei campioni nazionali, delle politiche industriali nazionali, del sovranismo economico e dall'altro la decisione di condizionare gli aiuti statali a una crisi creata dallo Stato, al fatto che le imprese si adeguino e compiano gli atti che i gruppi politici oggi ha il potere, perché è importante, i gruppi politici oggi ha il potere, desiderano essere facili. Chi non lo farà dovrà scappare. Se poi a conseguenza di questo scopriremo, l'ho sentito dire da più di qualcuno ultimamente, e succederà, se questo meccanismo si generalizzerà, in particolare se dopo la vittoria di Biden questo dovesse diventare il punto di vista dell'amministrazione Biden, mi auguro di no. Biden è uno molto più sensato che i Conte, il Grillo, il Mazzucato di questo mondo. Ma se per caso l'influenza del mondo Sanders, Warren e Ocasio-Cortez avesse questo effetto, sarebbe l'ulteriore occasione, questa si storica, per spostare l'asse dello sviluppo economico lontano dall'Europa, lontano dalle due sponde dell'Atlantico e verso il Pacifico. Noi sappiamo per esperienza che se tu imponi al sistema economico il suo complesso, con il ricatto di fatto, perché prima gli dici ti chiudo, poi gli dici vuoi riaprire? Hai bisogno di soldi per riaprire? Perché ti ho fatto chiudere? Adesso devi fare quello che dico io. Se quello che dici tu per miracolo è ciò che è profittibile, è ciò che funziona, va bene. Siccome la probabilità, come sappiamo appunto la tesi di Mario, che il signor politico di turno indovini cos'è tecnologicamente adeguato, cos'è profittevole, cos'è giusto fare, è molto prossima a zero, è molto probabile che tu gli faccia fare delle cose che non sono convenienti, che non sono produttive, che sono inefficienti, che sono diciamo russi a stile URSS. Risultato, le imprese o crollano o se ne vanno. Esatto, ma a parte ciò, il discorso che è estremamente complesso e ci dovremmo tornare, perché sennò parleremmo molto estesamente, è che in questo testo praticamente lei elogia alcune condotte in termini di condizionalità, fa esempi di condizionalità positive, di condotte positive. Il caso francese, avendo concesso 8 miliardi di prestiti al settore dell'automotive, il governo francese richiede che il settore produca più di un milione di auto a energia pulita entro il 2025. Inoltre, avendo ricevuto 5 miliardi, Renault deve tenere aperti due importanti impianti francesi e contribuire ad un progetto franco-tedesco per produrre batterie elettriche. E questo è un caso di condizionalità positiva. Però, allora, poi viene fatto l'esempio in negativo di FCA. E qui ci può stare, per l'amor del cielo, qui Mazzucato e il suo coautore scrivono, lo Stato italiano storicamente ha fornito molti sussidi alla Fiat e soprattutto la Fiat ha un track record assolutamente negativo per quanto riguarda la realizzazione dei piani industriali che ha sempre promesso. Assolutamente vero. Si scorda di dire che lo Stato italiano ha fornito quei sussidi alla Fiat proprio per implementare quello che lei oggi chiede. Esatto. Come parte delle politiche industriali, come frutto di accordi sindacali, come parte della richiesta politica. D'accordo? Esatto. Esatto. La Fiat, è vero, è sempre stata un'impresa di merda, se posso dire quello che io penso, nella grande maggioranza dei casi, almeno fino alla riva di Marchionne, con la breve eccezione, non mi ricordo più come si chiamava il direttore del settore auto cacciato poi da Romiti. Ghidella. Bravo. Vittorio Ghidella. Ghidella. Ecco, fatta salve con le due eccezioni, in media dalla sua fondazione è sempre stata un'impresa di regime. È stata un'impresa di regime che ha sempre vissuto, ha approfittato e ha arricchito le sue famiglie principali e le succedanee di riferimento, perché non solo gli Agnelli, ma molti altri, grazie proprio al fatto che in Italia ciò che oggi Mariana Mazzucata rivendica come se fosse una novità. È stato praticato sin dagli anni 30 dal signor Benito Mussolini. Dal signor Benito Mussolini, il senatore, i grandi soldi li fece grazie al Cavaliere, non è che li fece così, perché era sto grande imprenditore innovativo, ok? Non era il signor Ford, mi dispiace ricordarlo. La politica industriale che ha arricchito la FIA è la stessa, perché ha sempre risposto a richieste politiche, perfino quando sono andati a fare la... 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 la fabbrica a togliatura. Certo, assolutamente, ma quello che a me lascia perplesso, allora, Mazzucato ha questa grande fascinazione per il complesso militare industriale, no? Come si diceva mezzo secolo fa o giù di lì e quelli non più giovani come noi si ricordano, soprattutto a livello dei slogan politici, perché lei esalta la fertilizzazione che il sistema militare ha regalato all'industria, citando, secondo me a volte anche oltre i confini, oltre i limiti, il discorso di DARPA con la generazione di internet, la fertilizzazione, oppure quando esalta il modello cinese, no? come... 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 come drive di sviluppo. Io non ho elementi per discutere, mi vien da dire che io voglio ancora cercare di capire come fa un sistema realmente dirigista, no? A portare avanti l'innovazione, a non finire contro un muro. Però magari la Cina ha molti margini che col suo confucianesimo ce la fanno, però quello che voglio dire è questo, perché sono concetti veramente di sostanza e per cui mi interessano molto. Lo Stato si sceglie i vincitori, benissimo, proviamo, auguri, ma sull'innovazione tecnologica, che accade se uno di questi blocchi non riesce a prevalere sugli altri, no? Voglio dire, VHS contro Betamax, alla fine ha perso il Betamax e se altri standard dovessero affermarsi e perdere, avendo dietro le spinte del blocco politico, quello americano, quello cinese, quello europeo che non esiste, perché è la sommatoria di paesi il blocco europeo. Lei parla delle iniziative congiunte franco-tedesche, benissimo, il resto del continente si adegua sugli standard, la costruzione di campioni europei, come si concilia con la presenza di confini nazionali, visto che lei esalta il concetto bene ha fatto Macron e il suo governo a imporre a Renault di mantenere aperto un impianto in Francia. Questo è un valore per sé, quindi vogliamo creare una logica di sviluppo tecnologico, state-driven, government-driven, per blocchi. In Europa non esiste alcun blocco perché quello franco-tedesco non è un blocco, gli altri paesi non è detto che vadano a ruota e anche volendo non potrebbero perché si creerebbe una gerarchia che li stroncherebbe e quindi alla fine qual è la soluzione? La riproduzione su base di grandi blocchi di quello che io definisco lo splinternet, cioè la segmentazione per grandi blocchi degli standard tecnologici. Abbiamo uno standard americano versus uno standard cinese versus uno standard franco-tedesco dominante? Ma allora questo è vero che io e te siamo sporchi globalisti per cui bruceremo all'inferno ed è meglio avere alcuni grandi blocchi geopolitici piuttosto che una interoperabilità di sistemi perché poi alla fine avete visto come è finito con la pandemia, abbiamo fatto fare le mascherine in India e poi sono stati cazzi, giusto per dirti questi salti quantici logici che non c'entrano una fava perché le mascherine non sono high tech. Cosa pensi di tutte queste cose? Vi garantisco che io sto bene, non ho febbre, non ho niente, sto benissimo. Siccome questi temi mi interessano moltissimo e io faccio veramente fatica a entusiasmarmi per quelli che sono manifesti ideologici, voi mi direte ma perché tu non sei portatore di un manifesto ideologico che è quello del libero mercato, qualunque cosa esso voglia dire? Può darsi, anzi sicuramente ognuno di noi non è una monade, ognuno di noi ha un bias ideologico e se lo porta avanti, ma la Mazzucato che diventa una conferenziera internazionale brava, bravissima come Rubini, come tutti quelli che vuoi tu, cioè gente che vive in un empireo diciamo di grandi business di consulenze e governi, vengono omaggiati ideologicamente, lo stesso Piketty eccetera. Però la realtà è fatta di parecchi miliardi di persone che sviluppano, che cercano di capire in quale direzione andare, si consolidano degli standard, altri muoiono. Scegliamo uno Stato, la radice, l'altro punto ideologico della Mazzucato è essere convinta che lo Stato, anzi per dirla all'anglosfera the government, sia la radice etica di ogni scelta. quindi nel suo pensiero si rintraccia la base di una eticità dello Stato come l'entità astratta in grado di decidere al meglio anche per la proiezione del futuro della Stato, quando in realtà il genere umano è fatto di innumerevoli entità che cercano di capire come evolvere. Quindi non vorrei dire che poi tanto dopo mi prendono a pernacchie tutti i vari compagni che ci ascoltano e ci leggono che questa è una visione totalitaria, però mi pare che ne abbia i germi della visione totalitaria perché esaltare i complessi militari industriali, addirittura in un caso la presenza di un partito unico che pilota non so fino a che punto perché poi alla fine sono oligarchie, no? porte girevoli oligarchiche che pilotano lo sviluppo, lei fa parte di quella oligarchia però ce la presenta infiocchettata con la radice etica del decisore government che è eticamente superiore a qualunque entità privata. Non solo, non solo, lasciami anche aggiungere che posso dirlo francamente, Mariana come anche nel vecchio libro che ti diede il successo popolare ma mi piace dire non quello accademico perché sappiamo tutti che è pieno di balle e non lo prendiamo seriamente e lo dimostrò in Italia il buon Alberto Mingardi spiegandosi per segno che tre quarti dei cosiddetti esempi che tu usi vanno rivoltati. Ma il problema è vero che Mariana, e su questo c'è una differenza devo dire di qualità e questa lancia va spezzata, la spezzo io e va detto, infatti finiremo per discutere il documento del PD in un altro momento, è di altra qualità. A mio avviso non è la soluzione, anche quello si fonda su un'illusione che tu prima Mario in un messaggio al volo hai perfettamente sintetizzato. Alla fine, nella misura in cui c'è una parte sensata in quello che dicono, poi tutto si risolve nel magico moltiplicatore. Se la politica industriale la fa lo Stato, se noi decidiamo dove investire, come investire, indirizziamo che si investa nella direzione giusta, allora ci sarà un magico moltiplicatore e tutto crescerà molto più rapidamente di quanto faccia adesso. Ne discutiamo un'altra volta. Nel caso di Mazzucato e nel caso del mondo che lei rappresenta, devo dire onestamente la porcheria intellettuale è molto peggiora, perché essi sanno che non è il dirigismo delle state-owned enterprise che fa crescere la Cina, ma l'opposto. E ci sono i numeri. E ci sono i numeri. C'è una letteratura oramai trentennale, c'è una valanga di dati, e questi grazie a Dio li conosco bene, visto che ci vado e ci lavoro, che dimostra l'opposto. Oggi il dibattito è dieci anni fa, è venti anni fa, in Cina. È sempre stato come riduciamo l'intervento statale. Il peso delle state-owned. Come riduciamo il fatto che l'intero sistema finanziario sia ancora controllato dal potere politico e militare e che questo danneggi profondamente lo sviluppo economico cinese. L'evidenza che lo sviluppo economico cinese sia dovuto non al dirigismo statale, ma al contrario. Al suo progressivo rilassamento, alla progressiva uscita dello Stato dalla decisione di dove investire e come investire. È overwhelming. E questo vale per la Cina come vale per il Vietnam, vale per la Corea del Sud come vale per il vecchio Giappone del Miti, come vale per Taiwan, come vale anche per gli esempi europei. Negli esempi, nei sub-dolieti, esempi europei che vengono sempre a portare. Sembra che la presenza statale o di alcuni bancari come quello tedesco e Landesbank sia la chiave per cui Audi è una grande azienda o Mercedes è una grande azienda o che l'automotiva tedesco domina il mondo. Mi dispiace sottolineare che no. Landesbank o non Landesbank, Porsche e Mercedes e BMW e Audi fanno le macchine meglio degli altri e lo fanno perché hanno ingegneri migliori, iniziativa eccetera eccetera eccetera. Quindi c'è proprio un giochetto di falso ideologico nella vendita di queste storie di successo come dovute allo Stato imprenditore che va smascherato, va smascherato. Non è che mi incazzo però ci vedo l'elemento chiave perché l'elemento chiave è lì e le persone come Mazzucato non è l'unica, i Roventini, in Italia c'è tutto questo mundiglio di pseudo economisti industriali in realtà fondamentalmente galoppini politici che intendono utilizzare le occasioni da un lato del potere politico del Movimento 5 Stelle, della Casa Leggio Associati per cui lavorano, a cui fanno riferimento e della crisi sanitaria e sociale creata dal Covid per imporre una sciocca equivalenza che praticamente la senti anche girare, no? Cioè se il virus, la pandemia è stata così grande è perché abbiamo il modello di sviluppo sbagliato, avessimo avuto il modello di sviluppo che ha in mente Mariana Mazzucato non ci sarebbe stato il virus, qualcosa di questo genere oramai gira nell'aria, no no, gira nell'aria e quindi e quindi molto molto lo trovo molto pericoloso, non so se all'interno del governo italiano questo scontro è in atto, forse su questo lo sai meglio tu di me, però mi sembra un atteggiamento molto pericoloso e non riesco a capire da quali parti imprenditoriali possa venire il supporto per un tale punto di vista. Ah ma guarda, dalle parti imprenditoriali che vogliono essere annaffiate di sussidi e all'interno del mondo politico italiano la lotta è rimasta quella per catturare quote di spesa pubblica e distribuirla e finita drammaticamente la spesa pubblica italiana e la capacità fiscale domestica non è un caso che ora si guardi con occhi concupiscenti al miraggio della cascata di denaro dell'Unione Europea. Sì, ho capito. Questo lo dicevamo... Questo sì, questo lo abbiamo detto tante volte, sono d'accordo con te. C'è un'atmosfera folle per cui la ripresa consiste in questa enorme teorica valanga di denaro che ci regalerebbero... col moltiplicatore abbiamo risolto tutto. Non è garbage in, garbage out all'interno dei piani industriali, no? C'è il moltiplicatore che è quella specie di widget, no? Quel quid che serve ideologicamente a produrre meravigliosi documenti dove ti si spiega come questo paese riuscirà a rinascere. Sarà malafede o ideologia o è la stessa cosa? Non lo so. Il ristoratore albergatore tipico riesce a capire che lui non c'entra niente con questo. Non necessariamente. Perché queste sono operazioni fondamentalmente per condizionare, che so, il settore energetico e per sussidiare nel campo energetico le imprese amiche che fanno energia in una certa maniera e in una certa altra. Certo. Perché è questo di cui sta parlando Mariana. Cioè sta parlando del... stanno parlando, come dire, del colpo grosso, della ciccia. Ah beh, certo. L'idea è adesso, mia proprio, metto sotto controllo politico, cioè vignò, alcuni enormi settori industriali che in questo momento hanno controllo. Tutto l'automotive, quindi tutti i trasporti, incluso il trasporto aereo, quindi incluso la produzione avionics e paraggi, tutto il settore dell'energia, cioè di questo stiamo parlando. Cioè queste sono opportunità che non vengono once in a lifetime, vengono once in a century. Esattamente. Perché tutte le volte quando si parla di rivoluzione industriale 4.0, al di là della fascinazione, del tecno-ottimismo e del positivismo, qualcuno ha la concupiscenza, ribadisco il termine, di dire adesso noi ci catturiamo tutto. Del resto comunque la scarsità di risorse fiscali è quella stessa cosa che fa dire a Romano Prodi, che ricordiamolo è economista industriale, almeno lo è stato decenni addietro, e da quel ruolo ha guidato la rigenerazione, come dire, del paese si fa per dire, ti fa dire, beh, lo Stato entri con delle quote di minoranza, proprio perché manca la materia prima che sono le risorse fiscali, e quindi la si mette a leva man mano che si depaupera e sparisce. Questo è effettivo. Bisogna solamente, ma non è importante, discernere dove finisce l'ideologia, dove comincia alla malafede e in mezzo dove si situa l'atteggiamento predatorio per catturare risorse fiscali pubbliche, che è la storia di questo paese. Quindi direi che forse per il momento ci possiamo anche fermare, visto il tempo di parola che ho avuto e che abbiamo avuto, ma certamente possiamo tornare, diciamo, questa era un tentativo... E vale la pena di tornare perché dal punto di vista del lungo periodo, questa è l'operazione principale in corso. Sì, sì. No? Cioè l'utilizzo, francamente, mondiale, o perlomeno del mondo occidentale, della crisi come occasione per una certa classe politico-burocratica e ideologica di appropriarsi di settori enormi dell'attività economica, fino adesso privati, e non lo so cosa pensi tu, ma a me non sembra che l'Occidente sia stato così dannato dall'avionic, dall'aviazione, dal settore dei trasporti, dall'automotive, dal settore energetico negli ultimi 50 anni. Però... Sì, sì, ma... E poi, ripeto, la mia preoccupazione per l'Europa perché è una sommatoria di stati nazionali. Se noi andiamo a esaltare la, diciamo, la dimensione nazionale e poi vogliamo al contempo ingaggiare una battaglia di blocchi tra oligarchie industriali, militari, come sono la Cina e gli Stati Uniti, la vedo male, eh? Oh, certo, certo, sì. Sì, è vero. E questa è una cosa che forse io non ho apprezzato del tutto, sì, assolutamente. Uno scontro interno, che infatti è la follia, no? Lo scontro interno europeo fra piccole oligarchie nazionali, tedesca, francese, italiana, c'è che la spagnola, nel settore elettrico c'è la spagnola, spunteranno, sono più forti di noi in un certo senso, anche se è in realtà controlla Indesa. Indesa, sì. Però Indesa ha una sua, come dire, autonomia, no? Ecco, una rinascere dei sovranismi di politica industriale europea, quando dobbiamo confrontarci con la crescita degli Stati Uniti, fa ridere. Esatto. Comunque diciamo che oggi abbiamo analizzato le radici ideologiche del mazzuccatismo, inteso come, ecco, abbiamo già trovato il titolo, mister. Il mazzuccatismo, teoria, il mazzuccatismo, vabbè, una roba del genere. Vabbè, dopo ne parliamo. Il mazzuccatismo, teoria e prassi. Teoria e prassi. Corso progredito. Di economia industriale. Esatto. Carissimo. Va bene, alla prossima. Alla prossima, ciao. Ciao, ciao.